San Giorgio Acremano Siete noto collega giornalista di Striscia alla Notizia e Margherita Dini Ciacci, presidente dell'Unicef Campania. Moltissime le personalità presenti qui nella sede del comune di San Giorgio Acremano. Seguite il servizio. Come si fa a intervistare Luca Bete? Non lo so, come si fa? Luca, stasera è una serata importantissima. San Giorgio Acremano ti conferisce la cittadinanza onoraria. Non ci ferma nessuno, ti dice qualcosa. Sicuramente la motivazione è ancora più straordinaria per la tenacia e il coraggio con cui porti avanti delle battaglie straordinarie. Luca? Io sono contentissimo, sembra una frase di circostanza ma è la verità. Noi a testa bassa cerchiamo di macinare più chilometri possibili in questa strada sulla legalità, sulla strada del supporto alle persone che sono in difficoltà. Poi ogni tanto alziamo la testa e ci rendiamo conto che non siamo mai soli, che abbiamo tanta gente che ci vuole bene e ogni tanto ci arriva anche qualche piccolo riconoscimento importante proprio come quello che ricevo oggi e che mi fa capire che la strada è buona, che bisogna insistere ancora di più e che magari oggi sono così un abete che mette le radici in un'altra città. Ecco, non soltanto quella dove sono nato ma una città alla quale adesso mi leggo particolarmente. Radici straordinarie che stanno germogliando in questo coraggio che infondi ai ragazzi e ai bambini che ti stanno particolarmente al cuore? Sì, io penso che le generazioni grandi, adulte abbiano già fatto troppi danni. Credo che sia importante dedicarsi ai piccoli. Striscia è seguitissimo dai bambini, dai ragazzini e quindi ne approfitto proprio per far arrivare loro un messaggio importante. La nostra è una terra stupenda, una terra meravigliosa che può rinascere proprio grazie all'impegno e alla prospettiva diversa che possono avere le nuove generazioni. Quindi San Giorgio ma tutto il territorio campano possono essere cambiati se cambia l'occhio con il quale si guarda tutto quello che abbiamo intorno. Estriscia prova a farlo e magari proprio da San Giorgio può nascere qualcosa di bello. Ecco, chissà, tanti piccoli campioni di legalità, tanti piccoli esempi che possono contagiare più persone possibili. Il momento è tutto, il cittadino onorario Luca? Va bene, grazie a tutti! Sì, diciamo che San Giorgio oggi compie i suoi 20 anni del titolo di città, un importantissimo obiettivo e oggi vuole festeggiare con due onorificenze a due persone che sono state vicine alla città ma che rappresentano un poco quello che è la vita e la legalità e i bambini. Da un lato Margherita D'Iniciacci che è la Presidente dell'Unicef e quindi il lavoro che ha fatto a San Giorgio a Cremano ma non solo in Regione Campania per i diritti dei bambini e poi a Bete come simbolo di legalità che cerca tramite quelle che sono le sue inchieste di portare quella legalità e normalità che nella nostra città serve. Quindi legalità e possibilità di far crescere i nostri ragazzi in un mondo e in una San Giorgio e una campania più giusta due valori che si uniscono in un connubio unico nel ventennale. Un flash proprio San Giorgio, vivaio della legalità? Vivaio della legalità e dei diritti ai bambini, diritti ai bambini che sono già cittadini che poi diventano maggiorenne e quindi acquisiscono anche l'ultimo diritto che è quello del voto ma sono cittadini da rispettare e da poter dargli una mano. Grazie signora. Grazie a voi. Ho contribuito perché ho trovato amministrazioni che hanno compreso, ho trovato sindaci che ci hanno collaborato, ho trovato un sindaco come Zinno che prima tratta i bambini e poi i grandi. Questo è fondamentale per poter fare di questa città una forte testimonianza e non solo a livello locale ma anche a livello nazionale di quello che si può fare per i bambini quando si ha veramente amore per loro e la voglia di fargli crescere dei cittadini responsabili. Diciamo che dobbiamo costruire prima la città e poi la città dei bambini perché la città dei bambini è un impegno di tutta l'amministrazione, non di un solo assessore perché si tratta di riformare la città a misura di bambino. Se funziona a misura di bambino funziona per tutti. Si è appena conclusa questa straordinaria manifestazione che ha visto premiati per certi aspetti due personaggi importantissimi della cultura e anche del giornalismo. La dottoressa Margherita Di Nisciacci, presidente dell'Unicef Campania e Luca Abete, noto giornalista di Striscia la Notizia. Il sindaco ha conferito la cittadinanza onoraria a questi due straordinari personaggi ma soprattutto la città di San Giorgio si riconferma città dei bambini oggi il ventesimo anniversario. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano.